certamente ecco dieci trame di romanzi classici della paura eccovi dieci trame di romanzi classici della paura di mary shelley trama il giovane scienziato victor frankenstein crea un essere vivente attraverso esperimenti scientifici ma le conseguenze del suo atto hanno terribili conseguenze considerazioni questo romanzo esplora le implicazioni etiche della scienza e la ricerca del potere il golem senza un autore specifico trama un rabbino crea una figura di argilla animata da forze oscure per proteggere il suo popolo ebraico da persecuzioni considerazioni questa storia riflette le paure e la lotta per la sopravvivenza delle comunità oppresse il dottor jekyll e mr hide di robert louis stevenson trama il dottor jekyll attraverso una pozione si trasforma in mr hide una personalità malvagia che inizia a compiere atti orribili considerazioni esplora il doppio lato della natura umana e la lotta tra il bene e il male l'uomo invisibile di hg wells trama un uomo inventa un siero che lo rende invisibile ma il suo potere lo porta alla follia e alla criminalità considerazioni questo romanzo riflette sul potere e sulla responsabilità delle scoperte scientifiche la mummia senza un autore specifico trama un'antica mummia viene risvegliata e cerca vendetta su coloro che hanno disturbato la sua tomba considerazioni esplora la paura dell'ignoto e il concetto di vendetta dall'aldilà il fantasma dell'opera di gaston leroux trama un misterioso fantasma vive nelle catacombe dell'opera di parigi e si innamora di una giovane cantante cristine considerazioni una storia di amore e ossessione ambientata in un luogo affascinante e inquietante l'isola del dottor moro di hg wells trama un naufrago scopre un'isola governata dal dottor moro che crea creature ibride tra umani e animali considerazioni esplora la manipolazione genetica e le sfide dell'etica scientifica i miti di cthulhu di hp lovecraft trama una serie di racconti collegati che coinvolgono antichi dei cosmicamente potenti e creature terrificanti considerazioni lovecraft ha creato un'intera mitologia dell'orrore che ha influenzato la narrativa horror moderna l'uomo lupo senza un autore specifico trama un uomo si trasforma in un licantropo durante le notti di luna piena e compie omicidi brutali considerazioni esplora la trasformazione e la bestialità nascosta nell'uomo spero queste trame e considerazioni ti siano state utili una trama e alcune considerazioni sul romanzo dracula di bram stoker trama il romanzo dracula di bram stoker segue la storia del conte dracula un vampiro che si trasferisce dalla transilvania all'inghilterra nel tentativo di diffondere il vampirismo il libro è narrato attraverso una serie di diari lettere e articoli di giornale scritti dai personaggi principali jonathan arker un avvocato inglese è inviato al castello di dracula per trattare la vendita di una proprietà in indilterra tuttavia una volta lì scopre che il conte è un vampiro e cerca di fuggire nel frattempo sua moglie mina e la sua amica lusi sono prese nelle trame oscure del conte e di altri vampiri il professor abram van helsing guida un gruppo di persone nel tentativo di distruggere dracula e salvare le loro amate considerazioni dracula è uno dei romanzi gotici più influenti di tutti i tempi ed è stato fondamentale nel plasmare il genere dei vampiri nella letteratura e nella cultura popolare il romanzo esplora temi come la lotta tra il bene e il male la sessualità repressa e la paura dell'alterità il personaggio di dracula è diventato un'icona del male seduttivo e della notte eterna ed è stato adattato in numerose opere cinematografiche televisive e teatrali la struttura epistolare del romanzo basata su documenti e lettere aggiunge un senso di realismo e suspense alla narrazione dracula ha influenzato in significativo la narrativa horror successiva e ha contribuito un'inconaire un'inconaire un'unica insomma un'unica